La musica della Big Band Calagolone Jazz Project ha risuonato forte e chiara ieri nel Teatro Eliseo di Nuoro in occasione della 19esima edizione del Festival Internazionale Animale della Mediterranea. Un appuntamento ideato e organizzato dall'Associazione Intermezzo di Nuoro che anche quest'anno unisce musica alle tradizioni enogastronomiche del territorio. Una rassegna che nelle serate precedenti ha visto esplorare diversi generi musicali, dal soul di Tack & Petey al duo formato da Battista Giordano e Stockelo Rosenberg e il suo Gypsy Jazz, fino alla magica fisarmonica di Vincent Peirani. Ieri è stata la volta della Big Band Calagolone Jazz Project, una formazione musicale che nasce da un'idea del maestro Antonio Ciacca. Nell'ambito del Festival di Calagonone, il musicista ha deciso di dar vita a una band attraverso una dura sessione di prove di pochi giorni, mettendo assieme una serie di talenti che hanno dato vita a un concerto in cui hanno omaggiato alcuni dei mostri sacri della musica jazz. Una fusione di talenti che non andava dispersa, pertanto Intermezzo ha deciso di riproporre le performance della Big Band nel palinsesto di Animale e la Mediterranea. E il concerto è stato un successo di pubblica e di critica, con i musicisti che hanno fornito un'ottima prova. Alla Big Band ha voluto dare un contributo anche Gavino Murgia, che ha impreziosito col suo sassofono alcuni brani. Oltre al repertorio che affonda le sue radici nella musica jazz, la Big Band, vista anche le feste imminenti, ha riproposto qualche classico natalizio. Un clima che verrà potentemente evocato il 27 dicembre dal sestetto gospel di Cedric Shannon Reeves. Un concerto che sarà aperto dal coro grazie all'Edda, diretto dal maestro Giampaolo Sellone.